Bene, siamo giunti alla premazione, Chef, e io direi che in maniera unanime, perché è stata unanime, abbiamo deciso che il piatto vincitore, vediamo profumi di Sicilia, veramente complimenti, perché nel piatto abbiamo sentito il minacciamento di tutti i sapori che ci ha illustrato. Per cui, Elisabetta, complimenti, veramente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.